Capitolo 25, paraliso infiltrato. Via, 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 via. Eh, me ne sono accorto. Via! Guardate lì! Fermi! Ah, non lo c'è. Attenzione! Sì. Ok, andiamo fuori da qui ora. L'ultima volta non sono riuscita a dormire per giorno. Va bene, andiamo. Forza, non c'è tempo per il panorama. Seguitemi. Restiamo in movimento. Ma io avevo un'arma. Pare che non siamo i primi ad arrivare fin qui. Speriamo di avere più fortuna nell'andarcene. Sì. I corpi saranno qui da 60-70 anni. Eh. Forse non servirà molto, ma... Ecco. Grazie. Beh, Lazarevic e i suoi si saranno diretti in città. Perciò, se troviamo una strada che torni verso l'entrata, dovrebbe essere libera. No, Clo, dobbiamo inseguire la Pietra Cintamani. Cosa? Dobbiamo fermare Lazarevic. E come penseresti di fare, esattamente? Arrivando alla pietra prima di lui e distruggendola. Wow, wow, wow. Non dirmi che credi a tutte queste idiozie soprannaturali. Non so più a cosa credere ormai. Ok. Beh, giusto in caso te lo fossi perso. Quell'uomo è completamente pazzo. Pensa di realizzare una specie di antica profezia che la pietra in qualche modo lo renderà... invincibile. Immortale. Siamo nel bel mezzo di Shambhala e tu ti preoccupi di cos'è o non è possibile. Già, hai visto quanti proiettili gli hanno sparato. Di sicuro c'è qualcosa che non va. Ragione in più per andarcene finché siamo in tempo. Sto solo cercando di sistemare le cose. E forse di salvare il mondo. Oh cielo. Ascolta, bellezza. Il mondo. Se ne frega! Mettere fuori la testa è come invitarlo a tagliartela. Tu hai detto che volevi eliminare quel tizio. Sì, e voglio che paghi più di quanto lo voglia tu. Ma non è così che finirà. È così, così che andrà a finire. No. Non questa volta. Dai. Che ne pensi? Che siete pazzi. Ma andiamo pure a salvare il fottuto mondo. E andiamo a salvare il fottuto mondo. Allora. Anzitutto raccato tutto quello che posso raccattare. Cazzo. Ah, grande. Altre di quei mostri. Al riparo. Indietro. Ma facciamoli avvicinare. Facciamoli avvicinare. Questi sono quelle cose. Dori da uccidere, ecco cosa. Sono d'accordo. Cosa dovremmo fare? Qualche idea. Continuiamo a sparare! Chi è? Chi è? Ohhhh! No, merda, quelle cose esplodono! Via! Ci serviranno delle armi più potenti. Questo è certo. Beh, sì. Ad esempio la balestra. Ma munizioni non ne abbiamo. Coraggio, li puoi fare questi salti. Ok. Ci si è a te? Dove sono? Ah, sono. Ehi, è linfa, come la resina. Quella roba è infiammabile. Indietro! Che diavolo? Oh mio Dio, cos'è quello? Non sembra così inquietante. Oh mio Dio. Allora, saliamo qua. Ok. Ora si ragiona. Andiamo. Ehi, mi sembra familiare. Certo. La vietra cintamani deve essere custodita lì. È tutto così bello. Questo posto doveva essere davvero notevole al tempo. Troppa calma. Anche di... Sì, c'è troppa calma. Troppa, troppa calma. abbiamo compagnia. Ancora? Dove? Dove sono? Ah, eccoli Eccolo! No, liscio Ok, liscio Fatelo fuori Oh, oh Oh, oh Ah, so Oh, accidenti E muori Maledizione Ok, c'è chi non? That's the other Ok Oh, oh In testa Oh, cazzo Arrivano quelli cattivi Isis, 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 isis Bella Balestra E' andata bene Comunque Sta cosa come L'apriamo Merda E' bloccato Ah, ecco Manca l'altro contrapeso Beh, mi sembri Della misura giusta Divertente Ok, ci sono Vai, Clu Ok, ci siamo Via Oh, speri Ok Per poco Hai rischiato Un po' troppo Eh, un pochino Oh, porca puttana Via Via Arriva Non mi piace C'era va Mettere Pigliati Però Granata Eeeh Piglio di troia Accidenti Guarda So Di Merda Nate Ah, van Fan Pura Oh C'è Sto rischiando Sti Bastardi Attenzione All'inferno Attenzione Ha, so Voi state bene? Ragazze, dove state? Attenzione! Al riparo! Pare che dovremmo salire su quel cornicione. Usiamo il carrello. Prego! Così va bene. Bel lavoro, gente. Grazie per l'aiuto, Chloe. Figuro. Eccolo. Oh, ci siamo. Oh, merda! Giù! Ci sono dei guardiani anche qui! Non vogliono morire! Beh, che facciamo? Aspettiamo che si ammazzi una vicenda. Ok. Guarda questo! Guarda. Guarda, ci siamo dentro! Non ci trovano munizioni. A presto. Eccolo in testa. Eccolo in testa. Senti, tieni. Porca di quella puttana. Scendi, scendi, scendi. Oh, no, no, con loro no, con loro no. Oh, no, con loro no, con loro no. Oh, bella. Bella. Ciao. 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 Attenzione ai tizi con le pionde! Continuano ad arrivare! Attenzione ai tizi con le pionde! Attenzione ai tizi con le pionde! Attenzione ai tizi con le pionde! No! 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 Forza! Dobbiamo sbregarci! Stiamo andando giusti? Sì! 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 Fantastica! Ora spacchiamola e andiamocene da qui! Eh, aspetta! C'è qualcosa di strano. Cosa vuol dire? Marco Polo si sbagliava. Questo non è uno zaffiro. È ambra. Ambra? Sì, hai presente? Resina fossile. Linfa di albero. Aspetta un attimo. Cosa c'è? No, è una presa per il culo. Pronto, Nate? Odio quando fa così! Non dirlo a me. Come ho fatto a non capire? Che cosa? Non è realmente una pietra. È la resina. La linfa dell'albero della vita. Ok, aspetta. Mi sono persa. Quest'albero? No. Quell'albero. Oddio. Eccolo. Lazarevic. Va verso l'albero. Santo cielo. I denti neri. Cosa? I denti neri su quei guardiani e i corpi nel borneo. Hanno mangiato la resina. E in qualche modo li ha cambiati. È questo che credi abbia in mente Lazarevic? Vuoi davvero restare qui a scoprirlo? Bravo, Sherlock. Ben fatto. Flynn. Oh, Gesù. Oh, Harry. Che succede, amico? Ti spiace che Lazarevic ti abbia battuto? Lo hai mancato di poco, no? Ho pensato di restare indietro. E aspettare che vi uniste alla festa. Di cosa parli? Forse è quello che il vecchio Zoran ha sempre voluto, eh? È più furbo di quanto sembri. Possiamo ancora fermarlo. Elena, non… No, possiamo aiutarti. Mi spiace, tesoro. Questo non è un film. Non sei la ragazza coraggiosa che redimerà il cattivo e salverà tutti. Non è così che funziona. Flynn, ascoltami. Tu… Un regalo da Dio di Lazarevic. Ma si è tenuto la spoletta. Indietro! Elena! No! Oh, santo cielo. Elena! Ok, ti riprenderai. Forza, ti portiamo via. No! Fermate Lazarevic! Voi andate! Neanche per sogno. Forza! Sono laggiù! Merda! A posto, l'aiuto io, coprici. Non fateli ritirare! Da questa parte. Lazarevic! Fa un culo, Lazarevic. Dobbiamo portare Elena fuori da qui. Libero la strada! Tesoro, puoi farci. Forza! Aspettami. È uno. Alzati e combatti! Eccoci. È due. È tre. È quattro. Liscio. Bella. All'imperto! Forza! Muoversi! Ok, ci muoviamo, dai. Puoi farcela. Abbiamo compagnia. Attenzione. Ok. Un po' più avanti, ci siamo. Ok, indietro. Ok, indietro. Sei morto, Drake. Fatevi sotto! Eh, quelli sono tosti. Sì. Se li becchiamo in testa, però... Ah! Ah! Oh oh oh! Andate avanti! Ok, ci muoviamo, dai. Puoi farcela. Andiamo. Elena, tutta a posto! Forza! Un passo qui sopra! Forza! Un passo qui sopra! Va bene, era l'ultimo. Ehi. Elena, come ti senti? Non bene. Ce la farai, vero? Conto su di te, lo sai. Andate al cancello. Il più veloce possibile. Aspetta, cosa vuoi fare? No. Non puoi. Io devo finire. No, non devi. Non devi buttarti in casa. Questa stupida crociata. Portala fuori di qui. Non senza di te. Se quella roba può trasformare la Zarbich e il suo esercito. No, non farlo. Se può davvero renderli invincibili e io non provo nemmeno a fermarli. Ma questo è un suicidio. E lo sai. Andate. Allontanatevi da qui più che potete.